Una tazza di tè. Nanin, un maestro giapponese dell'era Meiji, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nanin servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. È ricolma, non ce n'entra più. Come questa tazza, disse Nanin, tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua tazza? Trovare un diamante su una strada fangosa Gudo era l'insegnante dell'imperatore del suo tempo, però viaggiava sempre da solo, come un mendicante girovago. Una volta, mentre era in cammino verso Edo, il centro culturale e politico del shogunato, si trovò nei pressi di un piccolo villaggio chiamato Takenaka. Era sera e pioveva di rotto. Gudo era bagnato fradicio. I suoi sandali di paglia erano a pezzi. In una casa colonica vicino al villaggio vide quattro o cinque paglia di sandali su un davanzale e decise di comprarne un paio. La donna che gli vendette i sandali, vedendolo così bagnato, lo invitò a passare la notte lì, in casa. Gudo accettò, con molti ringraziamenti. Entrò e recitò un sutra davanti al reliquiario della famiglia. Poi la donna lo presentò a sua madre e ai suoi figli. Notando che avevano tutti un'aria afflitta, Gudo domandò se fosse accaduta qualche disgrazia. Mio marito gioca d'azzardo ed è un beone, gli spiegò la padrona di casa. Quando gli capita di vincere si ubriaca e diventa manesco. Quando perde si fa prestare i soldi dagli altri. A volte, quando è ubriaco fradicio, non rincasa nemmeno. Che posso fare? Lo aiuterò io, disse Gudo. Ecco un po' di denaro. Procurami un gallone di vino buono e qualcosa di stuzzicante da mangiare. Poi andatevene a dormire, io resterò in meditazione davanti al reliquiario. Quando intorno alla mezzanotte il marito della donna rincasò completamente ubriaco, si mise a berciare. Ehi moglie, io sono a casa, non c'è niente da mangiare. Qualcosa ce l'ho io, disse Gudo. Sono stato sorpreso dalla pioggia e tua moglie mi ha gentilmente invitato a passare qui la notte. Per ringraziarla ho comprato del pesce e un po' di vino, sicché puoi gustarne anche tu. L'uomo fu tutto contento. Bevve subito il vino e si sdraiò sul pavimento. Gudo rimase in meditazione accanto a lui. Quando il marito si svegliò la mattina dopo, non ricordava più nulla della sera prima. «Chi sei? Di dove vieni?» domandò a Gudo, che stava ancora meditando. «Sono Gudo di Chioto e sto andando a Edo», rispose il maestro di Zen. L'uomo provò un'immensa vergogna. Non la finiva più di scusarsi con l'insegnante del suo imperatore. Gudo sorrise. «In questa vita tutto è instabile», spiegò. «La vita è brevissima. Se tu continui a giocare e a bere, non ti resterà il tempo di fare altro e farai soffrire anche la tua famiglia». Fu come se la coscienza del marito si ridestasse da un sogno. «Come potrò mai compensarti di questo meraviglioso amaestramento? Lascia che ti accompagni e che porti la tua roba per un pezzo di strada». «Come vuoi», acconsentì Gudo. I due si misero in cammino. Dopo tre miglia, Gudo disse all'uomo di tornare indietro. «Altre cinque miglia soltanto», lo pregò quello. Continuarono a camminare. «Ora puoi tornare indietro», disse Gudo. «Faccio ancora dieci miglia», rispose l'uomo. «Adesso torna indietro», disse Gudo quando ebbero percorso le dieci miglia. «Voglio seguirti per tutto il resto della mia vita», dichiarò l'uomo. In Giappone, gli odierni insegnanti di Zen discendono da un famoso maestro che fu il successore di Gudo. Il suo nome era Munan, l'uomo che non tornò mai indietro. «Ah sì?» Il maestro di Zen, Akuin, era decantato dai vicini per la purezza della sua vita. Accanto a lui abitava una bella ragazza giapponese, i cui genitori avevano un negozio di alimentari. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori scoprirono che era incinta. La cosa mandò i genitori su tutte le furie. La ragazza non voleva confessare chi fosse l'uomo, ma quando non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire che era stato Akuin. I genitori furibondi andarono dal maestro. «Ah sì?» disse lui come tutta risposta. Quando il bambino nacque, lo portarono da Akuin. Ormai lui aveva perso la reputazione, cosa che lo lasciava indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine. Si procurava dai vicini il latte e tutto quello che occorreva al piccolo. Dopo un anno, la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità. Il vero padre del bambino era un giovanotto che lavorava al mercato del pesce. La madre e il padre della ragazza andarono subito da Akuin a chiedergli perdono e fargli tutte le loro scuse e riprendersi il bambino. Akuin non fece obiezioni. Nel cedere il bambino, tutto quello che disse fu «Ah sì?» Le lezioni del maestro Bankei non erano frequentate solo dagli studenti di Zen, ma anche da persone di ogni ceto e di ogni setta. Lui non citava i sutra, né si dilungava in dissertazioni dottrinali. Al contrario, le parole gli uscivano direttamente dal cuore e raggiungevano il cuore di chi lo ascoltava. Che lui avesse un pubblico tanto numeroso fece infuriare un prete della setta, Nikiren, perché tutti i suoi seguaci lo avevano abbandonato per andare a sentire lo Zen. L'egocentrico prete Nikiren si recò al tempio, risoluto ad avere un contraddittorio con Bankei. «Ehi, insegnante di Zen!» gridò. «Aspetta un momento. Chi ti rispetta obbedirà a quello che dici, ma un uomo come me non ti rispetta. Puoi convincermi ad obbedirti?» «Vieni qui accanto a me e te ne darò la prova», disse Bankei. Con aria altera, il prete si fece largo in mezzo alla folla e si avvicinò all'insegnante. Bankei sorrise. «Vieni qui alla mia sinistra», il prete obbedì. «No», disse Bankei, «parleremo meglio se ti metti alla mia destra. Vieni da quest'altra parte». Con aria sprezzante, il prete passò dall'altra parte. «Come vedi», osservò Bankei, «tu mi stai obbedendo e io trovo che sei veramente gentile. Ora siediti e ascolta». «Se ami, ama apertamente». Venti monaci e una monaca, che si chiamava Eshun, facevano esercizio di meditazione con un certo maestro di Zen. Nonostante la sua testa rapata e il suo abito dimesso, Eshun era molto carina. Diversi monaci si innamorarono segretamente di lei. Uno di questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo per vederla da sola. Eshun non rispose. Il giorno dopo, il maestro fece lezione ai suoi discepoli e alla fine della conferenza Eshun si alzò. Rivolgendosi a quello che le aveva scritto, disse «Se veramente mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia». Nessuna pietà In Cina c'era una vecchia, che da oltre venti anni manteneva un monaco. Gli aveva costruito una piccola capanna e gli dava da mangiare mentre lui meditava. Un bel giorno si domandò quali progressi egli avesse fatti in tutto quel tempo. Per scoprirlo, si fece aiutare da una ragazza piena di desiderio. «Va da lui e abbraccialo», le disse. E poi domandagli di punto in bianco. «E adesso?» La ragazza andò dal monaco e, senza tante storie, cominciò ad accarezzarlo, domandandogli che cosa si proponesse di fare con lei. «Un vecchio albero cresce su una roccia fredda nel cuore dell'inverno», rispose il monaco, non senza un certo lirismo. «Non c'è più calore in nessun luogo». La ragazza andò a riferire alla vecchia quel che lui le aveva detto. «E pensare che ho mantenuto quell'individuo per vent'anni, proruppe la vecchia indignata. Non ha dimostrato la minima considerazione per i tuoi bisogni. Non si è nemmeno provato a capire la tua situazione. Non era necessario che rispondesse alla passione, ma avrebbe dovuto almeno dimostrare una certa pietà. Andò senza indugio alla capanna del monaco, vi appiccò il fuoco e la distrusse». Annuncio Nel suo ultimo giorno di vita, Tanzan scrisse 60 cartoline postali e incaricò un suo assistente di impostarle. Poi morì. Sulle cartoline c'era scritto «Sto per andarmene da questo mondo. Questo è il mio ultimo annuncio». Tanzan, 27 luglio 1892. Grandi onde All'inizio dell'era Meiji viveva un famoso lottatore che si chiamava Onami, Grandi onde. Onami era fortissimo e conosceva l'arte della lotta. Quando gareggiava in privato, vinceva persino il suo maestro, ma in pubblico era così timido che riuscivano a batterlo anche i suoi allievi. Onami capì che doveva farsi aiutare da un maestro di zen. In un piccolo tempio poco lontano soggiornava temporaneamente Akuju, un insegnante girovago. Onami andò a trovarlo e gli spiegò il suo guaio. «Tu ti chiami Grandi onde», gli disse l'insegnante. «Perciò stanotte rimani in questo tempio. Immaginati di essere quei marosi. Non sei più un lottatore che ha paura. Tu sei quelle ondate enormi che spazzano via tutto davanti a loro, distruggendo qualunque cosa incontrino. Fa così e sarai il più grande lottatore del paese». L'insegnante lo lasciò solo. Onami rimase in meditazione, cercando di immaginare se stesso come onde. Pensava alle cose più disparate. Poi gradualmente si soffermava sempre più spesso sulla sensazione delle onde. Man mano che la notte avanzava le onde si facevano più grosse. spazzarono via i fiori coi loro vasi. Sommersero perfino il Buddha nella sua cappella. Prima dell'alba, il tempio non era più che il continuo fluire e rifluire di un mare immenso. Al mattino l'insegnante trovò Onami assorto in meditazione, con un lieve sorriso sul volto. Gli batte sulla spalla. «Ora niente potrà più turbarti», gli disse. «Tu sei quelle onde. Travolgerai tutto ciò che ti trovi davanti». Quel giorno stesso, Onami partecipò alle gare di lotta e vinse. E da allora nessuno in Giappone riuscì più a batterlo. Non si può rubare la luna. Ryokan, un maestro di Zen, viveva nella più assoluta semplicità in una piccola capanna ai piedi di una montagna. Una sera, un ladro entrò nella capanna e fece la scoperta che non c'era proprio niente da rubare. Ryokan tornò e lo sorprese. «Forse hai fatto un bel pezzo di strada per venirmi a trovare», disse al ladro. «E non devi andartene a mani vuote. Fammi la cortesia. Accetta i miei vestiti in regalo». Il ladro rimase sbalordito, prese i vestiti e se la svegnò. Ryokan si sedette, nudo, a contemplare la luna. «Povero uomo», pensò. «Avrei voluto potergli dare questa bella luna. L'ultima poesia di Oshin Il maestro di Zen, Oshin, visse in Cina per molti anni. Poi tornò nella parte nord-orientale del Giappone, dove si mise a insegnare ai suoi discepoli. Quando era ormai molto vecchio, raccontò agli allievi una storia che aveva sentita in Cina. Ecco la storia. Il 25 dicembre di un certo anno, Tokufu, che era molto vecchio, disse ai suoi discepoli, «Poiché l'anno prossimo non sarò più vivo, dovreste trattarmi bene quest'anno». Gli allievi pensarono che stesse scherzando, ma dato che era un insegnante di gran cuore, nei restanti giorni di quella fine d'anno tutti loro a turno, lo invitarono a un gran pranzo. Alla vigilia del nuovo anno, Tokufu concluse, «Siete stati buoni con me. Io vi lascerò domani pomeriggio quando avrà smesso di nevicare». I discepoli risero, pensando che la vecchiaia lo facesse sragionare, perché era una serata limpida e senza neve, ma a mezzanotte cominciò a nevicare, e l'indomani nessuno riusciva a trovare il maestro. Andarono tutti nella sala di meditazione. Il maestro era aspirato là. Oshin, che aveva raccontato questa storia, disse ai discepoli, «Non è necessario che un maestro di zen preannunci la propria morte, ma, se veramente lo desidera, può farlo». «Tu puoi farlo?» domandò qualcuno. «Sì», rispose Oshin, «Tra sette giorni vi mostrerò quello che posso fare». Nessuno dei discepoli gli credette, e quando Oshin tornò a riunirli, la maggior parte di loro aveva persino dimenticato quel discorso. «Sette giorni fa, cominciò il maestro, ho detto che stavo per lasciarvi, ed uso scrivere una poesia di commiato, ma io non sono né poeta né calligrafo, che uno di voi scriva le mie ultime parole». Ed i discepoli pensarono che scherzasse, ma uno di loro si preparò a scrivere. «Sei pronto?» domandò Oshin. «Sì, signore», rispose il giovane. Allora Oshin addettò «Io venne dallo splendore e torno allo splendore. Cos'è questo?» La poesia mancava di un verso rispetto ai quattro tradizionali, e il discepolo disse «Maestro, ci manca un verso». Con lo ruggito di un leone vittorioso, Oshin gridò «Caa!» ed era morto. Ed era morto.